Musica Ciao Riga, è bello lo scarabello, è nuovo? Sì, ce l'ho da due giorni Ma lo sai guidare? Tua mamma ti manda in giro, si fida Eh, non me lo dire, mi telefono di 5 minuti Sì, mamma Pronto? Michele? Sei arrivato? Sei a scuola? Tutto bene? Sono appena arrivato a scuola, ora entro Sì, sì, va bene, allora se corri in classe così le sei al sicuro e le sei al tranquille Ciao, ciao, un bacio A sicura, a scuola? Ma lo sai tua mamma cosa ha combinato voi, Massimo? Eh, ci manca anche questo, così poi non vivo più Perché lo sai cosa hanno combinato i miei compagni in l'aula di disegno? Attento, non avvicinare il compasso agli occhi, sono pericolosissimi Non dovete usare in maniera il proprio il materiale da disegno, assolutamente Ecco, lo dicevo io Adesso consegnatevi subito la verifica, forza Però sta ben finita Bene, potete uscire E voi spiegatevi, forza Consegnate la verifica, senti E poi va sotto i miei motore Aia...Oma tu dove fanno? Sì, Matteo no no No, 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 no Pasta del tuo altro attimo... Abba, venite subito qua E adesso devi pericare a fare attimo da qua assolutamente si non vede si si sono un'atteggiamento assolutamente non vede provi stacca delle lini provi non ti vede che ci va tutto ma che ci va e per i maschi si tenne cosciente anche nel laboratorio di chimica dove invece si deve fare attenzione Oh raga, vi faccio vedere un esperimento che ho visto su internet, avvicinatemi! Ci faccio anche in aria! Aiuto! Ahhhh! Ma non la fa Leonardo! Pronti! Leonardo, tempo fa, va tutta la testa! Ragazzi, buongiorno! Che emozione! Non ci sono mai trovato! Vi va a disco! È l'accoglienza! Mmm, i dachi! Cosa c'è sotto? Niente, sono felice di essere a scuola! Oh, bene, bene! Mi fa piacere! Ti trago subito, allora! Ragazzi, sedetevi che... Ho fatto uno scherzo a Leonardo! Oh sì, che ho fatto! Leonardo, com'è successo? La testa! Accompagnolo subito in infermeria! Vai, vai! Mettiti ghiaccio, mi raccomando, tienglielo sopra! La testa è una cosa... Ora voi due, Tommassone e Spinazzi, venite qua! Rapporto dal preside! No, ma quando lo conosciamo già al preside? Appunto! Questa volta una bella sospensione non ve la toglie nessuno, eh! Avete superato la misura ora! Basta! Buonatti, per fare il furbo si è slogato una spalla! Ce l'ho fatta! Aspetta, aspetta! Ho trovato un modo per fridare le lattine! Comprite! Ma, di un po' Ciao! Ma, di un po' Chi sei? Ma cos'è? Ma cos'è? Un altro amato, ho trovato un moto per fridare le lattine! Quindi c'è un manone! Vado, vado, vado! L'aranciato! L'aranciato! Non ci arrivo! Abbiamo l'anzia! Abbiamo l'anzia! Abbiamo l'anzia! Ahia! Oh! 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 La spalla! Oddio cosa è successo? No, è la spalla! Si porta un' Nvidia! Non ce la filme, noi si c'è? Niente, niente! Non c'è! No, ma non c'è! Ma bö nosso! Ma no! Maorshipi! Camila!